Buon lunedì, inizia oggi una nuova settimana di liscio e macchiato, è il 27 novembre, buongiorno Marco. Buongiorno Andrea, buongiorno a chi ci segue. Da cosa cominciamo oggi? Dalla politica federale. Perché il PS ha designato il suo ticket per la successione di Elen Berset, scegliendo Beat Jans di Basilea e Ion Pult, grigionese, ma soprattutto questa scelta di ticket apre a delle riflessioni generali sul governo. Sì, c'è l'editoriale di Giovanni Galli sul Corriere del Ticino, per esempio, che sostiene, dice che il PS ha tolto dalla corsa una personalità molto qualificata come Daniel Iosic, che sarebbe stato eletto in Carrossa. Il consigliere degli stati zurichese ha subito, scrive Giovanni, una vera e propria rappresaglia dai contorni umilianti. Allora, il problema è che lui dice che la sua esclusione dimostra il crescente e insano potere dei gruppi parlamentari e dei vertici dei partiti nel pilotare le decisioni dell'Assemblea federale. In effetti Iosic sarebbe appunto stato eletto senza nessun problema. Però lui dice ancora peggio quando i gruppi parlamentari fanno passare a criticamenti i candidati, quindi gli altri gruppi, affinché vengano accettati anche i propri. Ecco, questa è una dichiarazione di Urs Alterman, della Nessia Di Verdi, che Giovanni Galli riprende nel suo editoriale. Naturalmente Iosic era, bisogna pur dirlo, il candidato preferito dall'ala borghese del Parlamento, dalla destra, diciamo pure, però certamente è eletto al primo turno al Consiglio degli Stati a Zurigo, una grande personalità e la sua esclusione è dovuta anche, diciamo, all'atteggiamento tenuto da Iosic nell'ultima elezione, quella che portò in Consiglio federale. Bosch Neider gli è costata carissima, ma a questo proposito c'è la NZZ che la tocca pianissimo in un articolo pubblicato questa mattina, adesso ve lo faccio vedere, eccolo qua, e dice Non sono i migliori ad essere eletti in Consiglio federale, ma quelli che si comportano meglio, si chiede il giornale. L'influenza dei partiti sui loro consiglieri federali sta diventando sempre più forti. I due candidati scelti dal PS sono i migliori? I partiti dovrebbero porsi questa domanda, ma sono troppo preoccupati da loro stessi. E poi aggiunge una considerazione ulteriore sul governo, che dice Il Consiglio federale è in condizioni deprimenti, un organismo in cui la fiducia reciproca è venuta meno. Il governo non si è più ripreso dalla parte del Covid. Insomma, mancano le personalità dal governo svizzero, Romano. Ma, beh, insomma, è un po' quello che dicono tutti, no? Che c'è anche chi si spinge a dire che è un governo di sette nani quello che sta governando oggi. Chiaro che fare i consiglieri federali non è facile, però evidentemente se i partiti cominciano a proporre persone a loro gradite e non a scegliere i candidati più qualificati e migliori che potrebbero affrontare questa sfida importante che è quella di governare il paese, è chiaro che c'è un problema. A me questa roba qua, però ricorda, non so, faccio un parallelo, voglio avere un po' azzardato, la storia di Amalia Mirante stromessa dal PS alle ultime cantonali, insomma, no? Cioè, quindi, quello che non piace ai partiti viene fatto fuori. Non so, che dici? Beh, è un parallelismo un po' ardito, però diciamo, più che ai partiti non piace al partito, perché in questo caso è il Partito Socialista che ha deciso il ticket da presentare per la successione di Alain Berset. Ricordiamo che con Alain Berset, comunque la si pensi, lascia il governo una personalità forte, di spicco, un leader sicuramente, e viene da chiedersi se oggi questo Parlamento sarebbe in grado di eleggere un Christophe Blocher o un Pascal Cushpen, insomma, personaggi con una personalità molto forte e, appunto, come si chiede la NZZ, non dei bravi ragazzi, non quelli che si comportano meglio, ma i migliori. E quindi viene da chiedersi, il governo federale ha bisogno di figure mediane, figure, se vogliamo, passateci grigie, di compromesso, o ha bisogno di leader? Perché poi si sa che quando ci sono i galli nel pollaio la discussione si fa più difficile. In questo momento avrebbe bisogno di un leader, sì, e Berset lo è stato sicuramente, anche durante la pandemia, quindi ha maturato una credibilità e una condivisione anche da parte di altri partiti, comunque la si pensi sulle sue posizioni, anche durante la pandemia è stato veramente, come dire, un buon consigliere federale, quindi mancherà la sua figura, vedremo, vedremo che cosa succederà a dicembre, per il mese prossimo. Torniamo in Ticino perché Tio, Tio.ch, pubblica un'intervista politicamente scorrettissima a una mistressa. Sì, è una signora che lavora in una casa di appuntamenti, in un bordello ticinese, e questa donna fa delle affermazioni interessanti che ci riportano un po' al tema dello stupro, che ricordano un po' la posizione di Andrea Giambruno che tanto ha fatto discutere quella storia del lupo, insomma, se la ragazzina si ubriaca e esce per strada di notte vestita in modo discinto, insomma, se provoca, ecco, può incontrare il lupo e fa un gran casino molto fuori in Italia. Cosa dice questa signorina o questa signora? Dice, no, non sto assolutamente giustificando lo stupro, però dico che certe disgrazie... Lo stupratore, lo stupratore. Lo stupratore, sì, ma in certe situazioni e contesti sono verificabili con maggiore probabilità. Dunque, il mostro esiste e lo si può incontrare tutti i giorni. Se una donna matura ha imparato a guardare il mondo con una certa consapevolezza, la ragazzina rischia di cadere in trappola senza che se ne renda conto solo per ingenuità. Quindi poi dice, importante in questo caso è il ruolo della famiglia e dei genitori che devono educare i loro figli, soprattutto le loro figlie, lasciare che una ragazza esca da sola con un vestitino troppo corto e magari si vada a ubriacare, ossia parti con sconosciuti in posti isolati, equivale a giocare d'azzardo con la propria vita. Ok? Ecco, allora, è la storia del lupo di Gian Bruno, insomma, no? Che dici? Oggi può andarle bene, domani no, aggiunge, colpe della ragazza? Certo che non è colpa della ragazza, ma ciò non toglie che il rischio sia concreto. Insomma, un discorso politicamente scorretto, quasi di real politica. Il mondo è brutto e bisogna adattarsi al mondo brutto, in sostanza. Più o meno sì. Più o meno sì. No, è chiaro che c'è un fondo di verità in tutto questo. Il mondo è brutto realmente, quindi bisogna essere molto cauti, ma non è una questione di giustificare lo stupratore e il mostro, è una questione che ci sono dei pericoli che probabilmente anni fa non c'erano, c'è una cultura dello stupro ormai diffusa tra giovanissimi e adolescenti. L'abbiamo visto a Palermo, l'abbiamo visto a Napoli, insomma, che quindi, voglio dire, ecco, è un pericolo in più che probabilmente anni fa non c'era, o forse di cui anni fa non si parlava, perché le cose venivano messe a tacere, non venivano denunciate. Questa è un'altra domanda che dobbiamo porci. C'erano già anni fa, ma non li si denunciavano? Non lo so. Diciamo che siamo di fronte all'ingiustizia del mondo, perché una donna dovrebbe essere libera di potersi muovere di notte e di giorno come meglio crede, però questo mondo ingiusto e pericoloso in attesa che la cultura, speriamo il più presto possibile, cambi e la sicurezza per le donne sia assoluta, o se assoluta non lo sarò mai, ma insomma, vicino al massimo possibile, qui si dice che bisogna prendere dell'accortezza. Un discorso difficile, ma estremamente interessante, devo dire che la provocazione lanciata da Tio questa mattina veramente meritava di essere eletta. Sempre a proposito, invece, sempre qui parliamo di un femminicidio avvenuto in Ticino, quindi ci ricolleghiamo in qualche modo, Marco. Sì, non è stato un femminicidio, ma un tentato, perché la vittima è stata, per fortuna sua, soltanto ferita, seppur gravemente. Due anni dopo i fatti si apre alle assise criminali di Lugano il processo al giovane Sangallese, che la sera del 21 ottobre 2021, sono passati già più di due anni, in via Valle Maggio sul Duro, sparò all'ex compagna, una 22enne locarnese, ferendola gravemente. Ecco, anche qui invece si apre tutto il capitolo del, non delle ragazze che vanno in giro a ubriacarsi e incontrano brutte compagnie, ma proprio la scelta del compagno di vita, che poi ci riporta al caso Cecchettini, insomma, che cosa sta dietro il proprio campagno, il proprio marito, lo si scopre a volte purtroppo in circostanze tragiche o drammatiche, quindi questo è però un altro tema che riporta al discorso della relazione, delle relazioni tossiche. Qui ne dà notizia la Regione. Parliamo invece della Chiesa, della Chiesa, perché c'è un dibattito in corso dal sito della RSI, c'è un'intervista al Cardinal Müller, che è, insomma, uno dei maggiori referenti della conservatrice della Chiesa, che dice che la Chiesa non può fare compromessi, si riferisce alle aperture di Papa Francesco, insomma, in termini omosessuali, piuttosto di coinvolgimento dei laici nell'attività corrente, diciamo così, della Chiesa. E Müller dice, la Chiesa non è un adattamento al mondo, non possiamo fare un compromesso con le cose false e distruttive, anche quando sono giustificate dal mondo. E poi dice un'altra frase forte, il padrino deve essere anche nella sua vita un esempio cristiano, per noi è chiaro che gli atti sessuali sono legittimi, sono all'interno del matrimonio tra uomo e donna. E' un tema delicato, anche questo si continua a discutere sui confini, qui interno la Chiesa deve ufficialmente muoversi, ma la società sta cambiando, la Chiesa deve comunque aprirsi, non può restare monoliticamente legata a dogmi del passato, a mio avviso, poi voglio dire, ognuno ha le sue posizioni illegittime come quella del Cardinale. Ma c'è chi la pensa diversamente, insomma, no? Don Feliciani, vai con Don Feliciani. Nella sua rubrica domenicale sul Ticino Libero, affronta proprio questo tema e dice l'essenziale è credere in Gesù, ascoltare la sua parola, cogliere il suo invito alla conversione, poi ognuno camminerà sulla via tracciata dal Signore come può con il suo passo, con i suoi slanci e le sue debolezze. Quindi sostanzialmente condivide la posizione di Papa Francesco, di apertura, no? Verso i omosessuali, verso i trasessuali, eccetera, eccetera. Se la Chiesa si chiude, secondo me rischia di perdere ulteriormente consenso a livello sociale, non soltanto tra coloro che vanno in Chiesa e che credono in Dio e vivono una vita al passo con la Chiesa, rischia di perdere consenso a livello sociale in generale. Quindi non si può chiudere, secondo me. La ragione, io sono col Papa. La Chiesa di Gesù e di tutti, anche dei trans, è il titolo, diciamo, del pensiero di Don Feliciani. Io mi limito a dire che non credo che la Chiesa debba cercare consenso e soprattutto, io non essendo cattolico, non essendo praticante, non essendo parte del club, se mi consentite, non mi sento di suggerire alla Chiesa come debba comportarsi, quale regole darsi, che strada prendersi. Lo deciderà la comunità cattolica che, come vediamo, dibatte e dibatte a fondo, anche tra le massime sfere del Vaticano, su questi temi, pur non essendo, lo sappiamo tutti, una democrazia. Sulla posizione, però, del cardinale, più... No. Scusa? Mi sembra che tu sia più sulla posizione del cardinale. No, non ci ho pensato a dirti la verità, però io credo assolutamente che la Chiesa non debba inseguire il consenso, perché sennò diventerebbe un'istituzione, adesso facciamo un discorso filosofico un po' alto, diventerebbe un'istituzione mondana, invece non è un'istituzione mondana la Chiesa, no? E quindi non deve inseguire il consenso, l'attualità, eccetera. Però, ripeto, non è una cosa che sinceramente mi riguarda. Fossi cattolico, fossi praticante, fossi all'interno della comunità della Chiesa cattolica, certo mi piacerebbe partecipare al dibattito e dire dove deve andare la Chiesa, chi deve aprire, chi non deve aprire. Ma da osservatore esterno, attento osservatore, perché mi interesso parecchio delle cose della Chiesa, non mi sento di dire dovete andare a destra, dovete andare a sinistra, dovete andare avanti, dovete andare indietro. Mi limito a osservare. E' un dato positivo che ci sia un dibattito aperto, ecco, il pubblico. Questo è fondamentale. Finiamo con il già citato Gian Bruno. Sì, perché ne parla Sposto Signorini, in un'intervista sulla rilasciata Corriere della Sera, ripresa da Dago Spia, dove sostanzialmente dice, Giorgia Meloni sapeva perfettamente chi era Andrea, ha dovuto scegliere tra se stessa e quello che rappresenta. Se non fosse stata a Palazzo Chigi avrebbe agito diversamente. Gian Bruno fu tra l'altro portato a Rete 4 proprio da Signorini. Era mio redattore a Calispera, racconta, identico come oggi, un bauscia, diciamo un ganassa, un guascone. In quattro giorni è andato fuori di casa, ha dovuto ripartire da zero, certo ha fatto delle cavolate, ma se ne rende conto. E poi ha la domanda della giornalista che chiede un parere a Signorini sul futuro della coppia, cioè un ritorno eventuale dell'amore tra la Meloni e Gian Bruno, lui dice adesso no, poi chissà. Ciamatrio Oscar stasera perché domani c'è la partita di hockey e quindi anticipa lunedì. Esattamente, abbiamo quattro ospiti in studio, come sempre, allora sono la maglia mirante, Rau Bisletta, Boris Bignasca, Andrea Gheri, in Skype due colleghi, Gianni Reghinetti e Andrea Manna, parliamo della protesta di piazza che c'è stata la scorsa settimana, quindi regata al preventivo, ai tagli, eccetera, eccetera, ma soprattutto puntando il focus anche sulla riforma fiscale, se c'è spazio e margine per rivedere le aliquote delle imposte. Insomma, questi saranno un po' i temi, poi vediamo se c'è altro di attualità che accade oggi. 19.30 Teleticino questa sera a Matrioska, come sempre ci siamo dimenticati, io mi ero fatto un appunto anche sottolineato, dicendo ricordarsi di iscriversi al canale di Libera TV all'inizio, ce lo siamo dimenticati, lo diciamo alla fine per chi è arrivato fino qui, quindi se avete la bontà di iscriversi a questo canale, noi vi siamo grati, e poi se vi è piaciuto questo video mettete anche un like e noi Marco ci vediamo domani. Perfetto, ciao a tutti.